Buongiorno a tutti ragazzi, qui Tecnarca. Oggi vi mostrerò una partita contro Florian Wurdach, campione tedesco del nazionale italiano DGC 2014. Scusate se purtroppo non abbiamo potuto mettere nuovi video sul canale, ma tutti abbiamo avuto veramente tantissimi impegni, soprattutto per colpa della scuola o dell'università. Quindi non c'è stato possibile girare le nuove puntate del Rototurank o caricare nuove lotte. Però vedremo di rimediare fin da subito con questa lotta. Devo dire che è stata una lotta veramente bella, come possiamo vedere il nostro avversario userà Scrafty, Eytran, Rotom Lavatrice e infine Venusaur. Noi invece useremo Charizard, Crobat, Mamos e Nelandorus. Diamo il via alla battaglia. Vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook e anche sul nostro forum, ed iscrivervi al nostro canale YouTube. Per ricevere aggiornamenti ogni qualvolta esce un nuovo video. Vediamo la lead del nostro avversario, che è appunto Eytran Scrafty. Qui cercherò appunto di far settare il sostituto a Eytran, grazie al supporto di bruciapelo di Scrafty. Qui appunto io userò Charizard e Crobat. Ritirerò immediatamente il mio Charizard, perché davanti a Eytran purtroppo ha vita breve, ma comunque non posso attaccarlo, e decido di ritirarlo al posto di Nelandorus. Qui invece vediamo che Crobat va in disturbato provocazione sull'Eytran, impedendogli di settare il sostituto. Il mio avversario qui, per non farsi mandare KO e il suo Eytran, lo ritira e manda in campo a Rotom. Io non predicto questo purtroppo, ma comunque faccio un terremoto che fa veramente tantissimi danni allo Scrafty avversario, ovviamente in combinazione a Super Zan. Qui il mio avversario fa privazione e pensa di eliminarmi lo strumento, la sua scelta. In realtà mi leva il mio Nelandorus e la bilcintura. E devo dire che qui l'avversario è stato molto più bravo di me, tant'è infatti che ha predictato la Protect, facendo un doppio attacco su Crobat, quando avrebbe potuto fare l'idropompa, che avrebbe sicuramente mandato KO il mio Nelandorus. Qui appunto il mio povero Crobat spara l'ultimo Super Zan prima di andare a KO sul Rotom avversario, e purtroppo appunto Crobat con questo doppio attacco va a KO. Qui mando in campo Charizard, decido di farlo Mega Volvere, giustamente per poter attivare appunto immediatamente siccità, e usare solo il raggio su Rotom Lavatrice, che però appunto come vediamo si protegge. Qui intanto l'Andorus attacca indisturbato facendo terremoto, e riesco a mandare KO Scrafty. Qui appunto purtroppo il solo raggio del mio avversario, il mio solo raggio sul Rotom avversario, non funziona dato che si era protetto. Qui devo dire che il mio avversario è riuscito a sfruttare veramente bene Charizard, e soprattutto il mio Sole, scusate Venusaur, e soprattutto appunto la siccità che io ho settato io. Tant'è che appunto senza Mega Volvere, usa Giga Assorbimento sull'Andorus per cercare di hot speedarlo. Io con terremoto faccio veramente pochissimi danni, e giustamente con solo raggio devo riuscire a mandare, riesco a mandare KO il Rotom Wash dell'avversario. Qui il mio avversario infine manda il suo ultimo Pokémon, che era l'Itran, che era stato ritirato poco prima. E qui ovviamente il nostro avversario non può non Mega Volvere Venusaur, perché altrimenti sarebbe andato sicuramente KO dopo un Vampata nel nostro Charizard. Fa comunque Giga Assorbimento prima il mio Landorus, mandandomelo KO, e cercando appunto di recuperare un po' di vita. Qui vediamo che Charizard usa Vampata, che per mia fortuna riesce a mandare KO il Venusaur avversario. L'Itran, avversario ovviamente, sette il sostituto senza nessun problema. E io purtroppo sono costretto a mettere il mio ultimo Pokémon, Mammuswain. Mammuswain qui, ovviamente con la stola scelta, fa terremoto e attacca prima il mio Charizard. Riuscendo a rompere il sostituto dell'Itran avversario. Qui Charizard fa solo la raggio, più che altro per non attivare gli Flash Fire, e per cercare comunque di fargli un minimo di danno, anche se il danno che appunto riesco a fargli è veramente ridicolo, dato che è un quarto e anche meno due in attacco speciale. Qui Itran fa onda calda, ma il mio Mammuswain evita l'attacco. Poco importante perché comunque dovrebbe reggere un'onda calda double target sotto il sole di Itran. E il mio avversario qui decide di quittare, perché giustamente non aveva più possibilità di vittoria. Dato che appunto ero loccato su terremoto ed ero più veloce del suo Itran. Spero che questa lotta vi sia piaciuta. Vi ricordo sempre di lasciare un bel mi piace alla sfida se vi è piaciuta, e di iscrivervi al nostro canale YouTube. Per rimanere appunto aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Beh, che dire. A domani con una nuova sfida. E a presto ricominceremo anche con le puntate del Road to Ranked. Un abbraccio dal team infinito.